Sì, dal vostro vittorio! Oggi faremo la Grasball Challenge! Vai! Pallone ripreso! Facciamo di nuovo! Annazza, non ti riesco! Ah, perché? Dammi qua, dammi, fai i bromi! Passamolo per terra! Io sono forte! Io sono forte! Giuro, sono forte! Vai! Oh, è poco! Vai! Vado! Luscio! Grasball Challenge è scompleta! E adesso, let's give! Oh, vieni sotto! Goal! Ho provato! Super Nail! Ho provato! Ho trovato un calcio e un mungco! Ciao ragazzi! Lasciate un like a questo video! E faremo la seconda puntata della Grasball Challenge! Ciao!